Chiede l'intervento del Ministro della Giustizia perché vengano poste in essere azioni concrete per contrastare la situazione disumana vissuta quotidianamente da detenuti e di riflesso da tutti gli attori sociali che operano negli istituti penitenziari sovraffollati. Con una interrogazione l'onorevole del PD Teresa Belanova riaccende i riflettori sulla drammatica situazione che si vive nelle case circondariali e quindi anche in quella leccese. Lo spunto lo ha dato l'ennesima morte tra le sbarre, quella di un detenuto del carcere di Lecce Borgo San Nicola, un cittadino romeno, 38enne, che ha perso la vita dopo 50 giorni di sciopero della fame. Una vicenda che non può di certo passare inosservata, come mai nulla si è fatto prima che il detenuto morisse, quando per circa due mesi non ha ingerito nulla fino a morire. Eppure tante sono state in passato le passarelle dei politici tra i corridoi del carcere, da quelli nostrani a quelli nazionali. La realtà si conosce benissimo, il sovraffollamento è ormai al massimo come la carenza del personale ed è così che si crea precarietà nell'assistenza, nel recupero e nel controllo. Belanova sottolinea nella sua interrogazione come la difficoltà aumenta per gli immigrati spaesati e spesso incapaci di comunicare. Tutto questo, secondo Belanova, viene amplificato dal fatto che molte di queste persone hanno anche difficoltà ad esprimersi nella lingua italiana. Questo scenario serio e multiproblematico, sottolinea la deputata, in diversi istituti italiani è aggravato anche da un allarme igienico-sanitario. Basti ricordare l'epidemia di scabbia che ha investito nel gennaio scorso il penitenziario di Bari.